Il nuovo buongiorno dalla redazione di Icaro. Preoccupa la situazione dei fiumi in questo momento in Romagna, in particolare nel Ravennate. Partiamo da qui nel racconto dell'allerta rossa che stiamo vivendo nuovamente a Rimini e in Romagna e andiamo a questa notizia con il resoconto di quella che è stata una notte in piena appunto per i fiumi. Il Marecchia tiene ma ci sono esondazioni nelle Ravennate e lo mostra anche il sito di Arpe con la fotografia della situazione alle 6.30 che vedete ci sono molti cartellini rossi che spiegano la gravità di alcune situazioni in particolare. Le precipitazioni sono proseguite con intensità nel corso della notte e hanno purtroppo creato nelle Ravennate situazioni già vissute lo scorso anno. Il Lamone, il Segno ed altri corsi d'acqua hanno tracimato rendendo di nuovo necessario in alcune zone l'evacuazione delle abitazioni vicine. È successo a Faenza ad esempio dove il quartiere Borgo è di nuovo finito sott'acqua e in altri comuni delle Ravennate. Nel riminese il Marecchia a Rimini ha raggiunto la soglia rossa tra le 23 e mezzanotte per poi ritornare a livello arancione nel giro di poco. Il calo di intensità delle precipitazioni intorno alle 2 di notte ha permesso di smaltire il carico e al momento i corsi d'acqua riminesi per quanto con consistente portata non sono in situazioni critiche. Nuove precipitazioni sono previste in giornata e naturalmente prosegue il costante monitoraggio da parte della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle polizie locali. Dicevamo della situazione nel Ravennate in particolare nella zona di Faenza. Ci racconta in questo momento l'ANSA che a Faenza è stato costruito uno sbarramento sul torrente Marzeno e poi l'ANSA dà conto delle ordinanze di evacuazione di cui dicevamo si sta intervenendo in particolare nella zona di Cimatti costruendo uno sbarramento e posizionando blocchi di cemento per fermare le acque che potrebbero arrivare dal torrente Marzeno. Questo dall'ANSA mentre il sito dell'Agenzia Dire raccontava ieri sera, questa è una notizia delle 21.26, il fiume esploso a Modigliana in Romagna è tornato l'incubo alluvione. Poco prima di mezzanotte è esondato il fiume Segno Castel Bolognese, larga parte della Romagna si preparava appunto, si preparava al peggio effettivamente poi la notte dicevamo ha piovuto dalla provincia di Forlicesena, Brisighella, Faenza e Ravennate, i fiumi sono osservati speciali. Dicevamo poi ulteriori aggiornamenti nel corso della mattinata quando arriveranno anche i risoconti della situazione, in particolare vi invito a seguire la nostra trasmissione Tempo Reale e andiamo al racconto della situazione della città che ha vissuto la città di Rimini in particolare, che ha vissuto ieri, situazione problematica in particolare per i sottopassi cittadini ma facciamo il punto, la ricostruzione della giornata nel servizio. Nella sola giornata di martedì sul riminese è scesa tutta la pioggia che dovrebbe cadere nell'intero mese di settembre con punte di oltre 80 mm. Già in serata si sono allagati diversi sottopassi con interventi di soccorso dei vigili del fuoco ma anche allagamento di fossi e chiusura di alcune strade nell'entroterra. La pioggia ha continuato a cadere nella notte con diversa intensità fino al picco di questa mattina che ha messo di nuovo in crisi gran parte dei sottopassi a Rimini dove alcune automobili sono rimaste bloccate, sommerse dall'acqua. Fogne e tombini sono andati in tilt nel far defluire l'acqua causando diversi allagamenti in strade e scantinati. Nelle prime 24 ore di precipitazioni la pioggia su Rimini ha raggiunto un totale di 120 mm con punte di 160. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. La scuola d'infanzia Delfino a Bella Riva ha chiamato i genitori per far riprendere i bambini. Pioggia di nuovo anche dentro il tribunale e critica anche la situazione in spiaggia per i danni delle mareggiate. Sotto controllo, almeno fino al tardo pomeriggio, la situazione dei corsi d'acqua principali, Marecchia, Ausa e Torrente Marano. Dalla tarda mattinata c'è stata una tregua che ha permesso la riapertura di buona parte dei sottopassi ma le previsioni continuano a preoccupare tanto da aver fatto aumentare il livello dell'allerta. Per la notte si guarda con apprensione alle piogge in risalita dal sud e per avere un significativo miglioramento ci sarà parecchio da aspettare. Le perturbazioni, secondo le previsioni allo stato attuale, proseguiranno fino alla prima parte della giornata di venerdì. Insieme ai vigili del fuoco, anche protezione civile e polizie locali si mantengono pronti a intervenire. E questo era il racconto appunto della giornata di ieri e poi nella notte ancora precipitazioni. E oggi per l'allerta rossa le scuole sono chiuse in tutta la provincia di Rimini. L'annuncio è arrivato ieri alle 13.30 dalla Presidente della Regione ad Interim, Irene Priolo e le macro aree interessate dal provvedimento oltre a Rimini sono state Ravenna, Fulicesena e la città metropolitana di Bologna. Sentiamo su questo il servizio. L'annuncio della Presidente della Regione, Irene Priolo, è arrivato dopo che a mezzogiorno è scattata l'allerta rossa dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Domani le scuole resteranno chiuse nella zona rossa, ovvero nelle province di Rimini, Forlicesena e Ravenna, dove la pioggia, caduta in 48 ore, ha allagato di nuovo strade, sottopassi, spiagge, centri storici, garage, scantinati. Non è allarmismo perché non siamo di fronte all'alluvione di maggio 2023, ma bisogna mantenere la soglia d'attenzione, ha detto Priolo. Attivato tutto il sistema di protezione civile, allertati tutti i prefetti e i sindaci delle zone coinvolte, la decisione è stata condivisa con i presidenti di provincia di Forlicesena, Enzo Lattuca, di Ravenna, Michele De Pascale, di Rimini, Gianni Sadegolvad e della città metropolitana di Bologna, Matteo Lepore. Ognuno ha adottato le apposite ordinanze. A Rimini il sindaco Sadegolvad ha deciso di chiudere, oltre alle scuole di ogni ordine e grado, anche i parchi e sospendere i mercati ambulanti. Preoccupa la quantità di pioggia che potrebbe cadere dalla mezzanotte. Non siamo di fronte a un evento come quello del 2023, però è un evento importante, abbiamo questa perturbazione di Boris che sta scendendo dall'Europa e che quindi attraverso l'Adriatico entra nella nostra regione, per cui noi abbiamo attivato questa allerta proprio per fare in modo che tutto il sistema sia pronto. Ho parlato con i sindaci capoluogo e i presidenti di provincia di chiudere le scuole nella giornata di domani e relativamente soltanto alla giornata di domani. Questo per consentire i minori spostamenti possibili e quindi non perché abbiamo già una previsione che possa succedere qualcosa di catastrofico, ma dobbiamo essere pronti. Chiederò anche al sistema delle imprese di attivare lo smart working laddove è possibile e quindi di evitare che anche i lavoratori, dal momento che peraltro dovranno magari tenere a casa i propri figli, possano rimanere presso il proprio domicilio, la propria abitazione. In queste ore è attivo il COR, centro operativo regionale. Nelle aree montane sono stati inviati i geologi per il monitoraggio continuo di frane, dissesti, situazione strade a supporto degli antilocali. Attivo fino a sabato 21 settembre il numero verde regionale 800 024662 dalle 8 alle 20. E per la nostra provincia, dicevamo, l'attenzione è sulla situazione in particolare idrogeologica. In Valconca si sono registrati alcuni smottamenti e poi in particolare nella zona di San Clemente e anche su questo naturalmente c'è un continuo monitoraggio. Cambiamo adesso argomento e andiamo alla vicenda dell'omicidio di Pierina Paganelli. Dalla memoria di oltre 200 pagine presentata dalla procura all'esame è emerso il passato da combattente di Luis da Silva, al momento unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il suo passato da combattente prima di arrivare in Italia. E allora sentiamo il servizio. Emergono nuovi dettagli dalla memoria di oltre 200 pagine depositata all'esame dalla procura di Rimini. Gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci, hanno scavato nel passato di Luis facendo emergere le capacità dell'indagato nell'impiego delle armi, dati i suoi trascorsi nella gendarmeria senegalese e successivamente in un'agenzia di sicurezza del suo paese. Poi la complicata e traumatica fuga in Libia per evitare di essere reclutato dai gruppi armati nel conflitto contro il governo e la detenzione a Saba, dove da Silva ha raccontato di essere stato sequestrato e rinchiuso in un carcere per una o due settimane e picchiato con le cinghie, con i bastoni e con il calcio del fucile. Ci facevano combattere tra di noi per scommessa, ha dichiarato mesi fa davanti agli investigatori della mobile, che sulla base degli elementi raccolti sono arrivati alla conclusione che le senegalese sarebbe stato capace di uccidere e a supporto di questa tesi riportano il dialogo che la moglie Valeria Bartolucci, tre giorni dopo l'esecuzione del provvedimento cautelare in carcere nei confronti del marito, ha con alcuni giornalisti Rai e Mediaset. La donna, senza sapere di essere registrata, esalta le qualità militari di da Silva, il quale, a suo dire, disporrebbe di tutti gli strumenti atti ad uccidere una persona senza che questa versi una goccia di sangue. E restiamo in tribunale per parlare della vicenda del vigile del fuoco che ha perso la vita dopo una lite fuori da una discoteca a Miramare in aula, scontro tra periti nel processo e il 30 settembre ci sarà una nuova udienza. Ma sentiamo appunto il confronto, sentiamo del confronto che è andato in scena in tribunale tra i periti nell'udienza di ieri. Un'udienza dai toni accesi e dai pareri discordanti, quella tenutasi nell'aula L del Tribunale di Rimini per l'omicidio di Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco di 34 anni in servizio a Rimini, ucciso l'11 giugno 2023 all'esterno del frontemare da Clai Di Miestri, 29enne albanese che quella sera lavorava nel locale di Miramare come buttafuori senza contratto in abilitazione. Davanti al gruppo Vinicio Cantarini è andato in scena un altro scontro tra perizie, quella della dottoressa Loredana Buscemi, periti incaricato dal giudice, e quella del dottor Guido Pelletti, consulente del pubblico ministero Davide Ercolani, entrambi concordi nell'affermare che ad uccidere Tucci siano stati pugni scagliati da Miestri, contro quella del professor Mauro Pesaresi, perito della difesa, secondo cui ad essere fatali a Tucci non sarebbero stati pugni sferrati dal buttafuori, bensì il successivo impatto con l'asfalto. Dopo oltre un'ora e mezza di confronto e tesi opposte, il gruppo ha fissato una nuova udienza il 30 settembre, quando verranno risentiti gli altri buttafuori presenti quella sera. A loro sarà chiesto di ripercorrere con dovizia di particolari i momenti dell'aggressione che hanno portato alla morte di Tucci. L'accusa nei confronti dell'albanese è di omicidio volontario, ma potrebbero farsi strada anche le ipotesi del dolo eventuale o della pretere intenzionalità. Nove persone sono state identificate e sanzionate sulla costa riminese dalla Guardia Costiera durante l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2024. Circa 40.000 euro il totale delle sanzioni per i nove soggetti che attraverso la gestione e l'uso di piattaforme online esercitavano abusivamente un'attività di intermediazione commerciale tra skipper e proprietari di imbarcazione da diporto nei confronti di diportisti richiedenti il noleggio delle barche. L'incremento atipico di richieste sul web ha insospettito il personale della Capitaneria di Porto di Rimini. Restiamo sulla cronaca. Ruba cibo nella dispensa di un albergo e malmena il dipendente che lo scopre, è stato scoperto appunto da un dipendente e lo ha malmenato per poi tentare la fuga. Momenti di tensione nel tardo pomeriggio del 17 settembre in un hotel di Miramare. L'uomo in italiano si è introdotto in cucina, ha cominciato a riempire lo zaino con alimenti trovati nella cambusa. Quando uno dei dipendenti della struttura si è accorto di lui, ha tentato di giustificarsi dicendo di essere un fornitore e una volta scoperto ha cominciato a lanciare del cibo contro il malcapitato che poi ha aggredito con calce allo stomaco nel tentativo di guadagnarsi la fuga, provvidenziale l'intervento di alcuni colleghi che sono andati in soccorso della persona colpita e hanno chiuso le porte di uscita impedendo al ladro di andarsene fino all'arrivo degli agenti delle volanti della questura che lo hanno tratto in arresto. Nello zaino aveva diversi prodotti che sono stati restituiti all'albergo. Parliamo del trasporto scolastico, riduzioni anche per famiglie monogenitoriali. Le agevolazioni per il trasporto scolastico degli under 14 dunque si ampliano. Anche per l'anno scolastico appena iniziato l'amministrazione comunale ripropone le agevolazioni per l'abbonamento al servizio di trasporto scolastico volute per cercare di andare incontro alle esigenze delle famiglie riminesi con condizioni socio-economiche più delicate e fragili. La misura ricalca quanto già previsto negli anni precedenti e conferma la riduzione del 50% del costo dell'abbonamento destinata ai nuclei familiari in cui sono presenti almeno 3 minori fino a 14 anni di età e con indicatore ISEE di valore pari o inferiore a 25.000 euro. Però quest'anno si aggiunge questa importante novità, infatti potranno richiedere il dimezzamento dell'abbonamento anche i nuclei monogenitoriali dove c'è presente un minore attualmente riconosciuto da un solo genitore con ISEE sempre pari o inferiore a 25.000 euro. È una novità che oltre ad ampliare lo spettro di studenti destinatari e della misura rappresenta la volontà da parte dell'ente di intercettare le nuove e diverse esigenze delle famiglie di oggi come quelle composte da un solo genitore. È una realtà sempre più diffusa in crescita anche a Rimini dove questa tipologia rappresenta circa il 12% del totale, ha sottolineato la vice sindaca con delega alle politiche educative del comune di Rimini Chiara Bellini. Anche recentemente, aggiunto, sono stati pubblicati studi mirati che certificano la maggiore esposizione alla povertà dei nuclei monogenitoriali composti per la maggior parte, ma non solo, da madri sole con figli a carico. Un totem e una targa dedicati allo storico riminese a Medio Montemaggi. L'inaugurazione del monumento fa parte degli eventi previsti nel programma per celebrare l'ottantesimo anniversario della liberazione di Rimini e sarà inaugurato mercoledì 25 settembre alle 17.00, un totem con una targa in ricordo del celebre cittadino storico della linea gotica. Il monumento è stato realizzato nella rotonda, situata in piazzale Cesare Battisti, corso Giovanni XXIII, già dedicata al professore storico riminese nel settembre del 2022. È un totem espositivo alto un metro e tenta, dalla tipologia di quelli storici già presenti in città, contenente una targa con la descrizione della vita dello storico riminese e poi la targa è affiancata da un ritratto a matita di Medio Montemaggi realizzato dall'architetto Ilario Fioravanti. Accanto alla targa è presente una teca che custodisce una vera scheggia del bombardamento avvenuto a Rimini il 28 dicembre 1943 proprio vicino alla casa di Montemaggi. Parliamo del lutto che ha colpito il calcio. La morte a 59 anni di Totò Schillacci da tempo lottava con un tumore ed era ricoverato all'ospedale civico di Palermo dal 7 settembre quando le sue condizioni di salute erano peggiorate. Il bomber d'Italia 90 era stato a Rimini quattro anni fa nella veste di cantante. Vediamo. Non era solo un giocatore, un grande attaccante, un campione, era per un'intera generazione l'eroe delle notti magiche, quelle dei mondiali del 90 in Italia. Totò Schillacci con i suoi occhi sgranati, con i gol che ci hanno fatto accarezzare il sogno della vittoria, poi mancata, sarà sempre un simbolo di un calcio che forse non c'è più. Dal Messina in Serie B alla Serie A con la Juve nel 1989 quando di anni ne aveva già 25, poi la convocazione nazionale per i mondiali di casa in cui avrebbe dovuto essere riserva, ed è stato invece il protagonista indiscusso. E poi ancora Juve e Inter con poca fortuna e infine il Giappone. Nella sua vita dopo lo sport Schillacci non ha disegnato la tv, lo spettacolo, anche la musica. Nell'estate 2020 arrivò a Rimini per raccontare la sua esperienza da cantante nella canzone Gli anni degli anni del gruppo riminese 78 Beat. Non sono un cantante quindi ho cercato di calarmi, come dire, è una cosa diversa che io sono abituato, però diciamo che alla fine è venuta bene, è venuta, come dire, è molto carina la canzone, molto bella. A distanza di 30 anni pensavo che tutto questo poteva finire, invece ancora è presente nel mio cuore, nella mia mente e soprattutto da tante persone, ecco, questo mi fa un grande piacere. Painting. Al Museo della Città inaugura una sala dedicata all'artista Aaron. Sabato 21 settembre, in occasione della giornata internazionale della pace, il Museo della Città, alle 18, inaugura una sala dedicata appunto all'artista. Sarà visibile gratuitamente tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, tranne il lunedì. Musica sacra, architettura, simboli religiosi, donoreste, ripartono i percorsi AC. Al via una nuova edizione per l'anno accademico 2024-2025 dei percorsi Ascolto Attivo Cercasi promossi dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli, delle diocesi di Rimini e San Marino Montefeltro. I percorsi sono aperti a tutti, studenti già iscritti all'Istituto o semplici interessati e sono pensati per chiunque credente o meno si sente interpellato dalle opportunità formative messe in moto dal cammino sinodale della Chiesa. Si possono frequentare in base al proprio specifico interesse, scegliendone uno o più tra quelli proposti. Ogni corso viene erogato online o in alcuni casi in modalità mista, quindi potrà essere fruito da studenti e studentesse di tutta Italia. Musica sacra, liturgia, vita religiosa, architettura e simboli religiosi, letteratura, teologia, scienze bibliche, sono tanti i temi che verranno affrontati dai docenti e la proposta formativa include anche un percorso dedicato alla figura di Don Oreste Benzi nel centenario della sua nascita. Adesso ho in chiusura uno sguardo alle previsioni meteo, ma già sappiamo che è prevista ancora pioggia, in particolare intensa nella mattinata sulla provincia di Rimini, poi in attenuazione stando al sito di Arpe Emilia Romagna per quanto riguarda le temperature sulla costa. Oggi raggiungeranno i 21 gradi, 14 gradi su rilievi. È tutto per Icaro Tg Mattina, vi ricordo di seguire dalle 9 per gli aggiornamenti l'appuntamento con la nostra trasmissione Tempo Reale. Intanto da Serena Saporito e dalla redazione, grazie per l'attenzione. Buon proseguimento di giornata.